Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, coda in uscita a Prato Est proveniente da Firenze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Verso Firenze troviamo coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e coda a tratti per traffico tra Pistoia e bivio 11 a 1. In FIPILI restano rallentamenti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandici verso Firenze. Ricordiamo inoltre che l'uscita di Montelupo Fiorentino per chi proviene da Livorno è chiusa fino alle 23 per un trasporto eccezionale. A Firenze traffico sostenuto sulle principali direttrici in ingresso città, in particolare sulla direttrice porta al Prato Fortezza Piazza della Libertà in zona via Di Noboli, via Baracca, via Bolognese, via Marco Polo, via Senese. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!